Ben ritrovati seconda parte con la nostra rassegna stampa sportiva, tra poco andremo ad affrontare l'argomento di giornata che è naturalmente la sfida amichevole dei bianconeri di Mr. Tudor contro il Besiktas. Si gioca con fischio d'inizio alle ore 19, un'ulteriore possibilità per vedere il lavoro svolto in questa ultima settimana di ritiro a Sunfight con i ragazzi che si sono allenati, sono proseguiti per tutto l'arco della settimana di allenamenti a cura di Mr. Tudor e del suo staff. E allora, prima di collegarci con Jacopo Romeo andiamo proprio a fare il focus sui nostri avversari di questa sera. La bianconera più titolata di Turchia per chiudere il precampionato in Austria. Il Besiktas a Gredig manterrà un alto coefficiente di difficoltà per l'udinese di Igor Tudor. Le aquile nere hanno concluso lo scorso campionato nazionale al terzo posto a quattro lunghezze dal Galatasaray campione con cui hanno condiviso il record di reti segnate, 72 in 34 incontri. Con l'addio di Senol Gounès, tornato ad allenare la Turchia dopo lo storico bronzo al Mondiale 2002, in panchina si è seduto Abdullah Avci, vicecampione con il Basak Sehir, che ha confermato il 4-2-3-1, dove trovano posto diverse vecchie conoscenze italiane ma anche giocatori di fama continentale. Tra i pali c'è Loris Karius, salito alla ribalta più per le papere della finale Champions del maggio 2018 tra Liverpool e Real Madrid, che per la sua esperienza in Super League in prestito biennale dai Reds. Davanti all'estremo tedesco, un vicecampione del mondo, Domagoj Vida, perno della Croazia nella rassegna in Russia, dove ha segnato un gol decisivo proprio contro i padroni di casa ai quarti di finale, finendo KO solo nell'atto conclusivo con la Francia. Per difendersi, oltre al possente centrale, il Besiktas si avvale anche dell'aggressività di Gary Medel, recentemente protagonista in Copa America di uno screzio con Leo Messi, nella finalina contro l'Argentina. Il Pitbull è solo uno degli ex-Inter a disposizione del club turco. Sempre in difesa c'è Caner Erkin, meteora dell'estate 2016 senza presenze, mentre in fase offensiva trovano spazio i talenti di Riccardo Quaresma e Adem Lijic. Il portoghese è reso famoso dal calcio di esterno piede soprannominato Trivela e ha la seconda esperienza con il Besiktas. La prima era successiva al triplete nerazzurro, dove Quaresma incise poco in proporzione alle aspettative, pur mantenendosi nel giro della nazionale, laureandosi campione d'Europa nel 2016. Con lui sulla tre quarti si è disimpegnato con profitto anche il serbo, riscattato dal Torino per 6 milioni e mezzo dopo i 9 gol in 27 presenze messi a segno dagli AIC in campionato. Il Besiktas ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione, portando nel ritiro in Austria di Sal Felden l'americano Tyler Boyd, l'esterno brasiliano Douglas Pereira, ex Barcellona, sbarrando momentaneamente la strada alle uscite in direzione Serie A. Sembrano infatti sfumate le piste che riguardano l'esperto attaccante Burakil Maz, puntato dal Lecce dopo gli 11 gol in 15 presenze a partire da gennaio, ma indicato come capitano nelle gerarchie prestagione, così come il centrocampista classe 1996 Dorukhan Tokos, più volte accostato all'Udinese ma pronto a fronteggiare la formazione friulana nell'amichevole di Grodig, con fischio d'inizio alle ore 19. Ed è là che si recchierà nel pomeriggio il nostro Jacopo Romeo, al quale andiamo subito a dare il buongiorno, e vediamo se ha già preparato i bagagli per rientrare in Friuli. Buongiorno Jacopo. No, non ancora a dire il vero. Ciao, ciao Davide. Un saluto, una buona giornata a te, a tutti coloro che ci seguono da casa. Non ancora, anche se devo affrettarmi perché la partenza per Grodig è immattinata. La squadra partirà in mattinata, è il cuore della mattinata qui dall'hotel di Zayt di Sunfight, dove ha trascorso questi 12 giorni molto molto intensi di ritiro, per spostarsi a Grodig dalle parti di Salisburgo, poco più di due ore di trasferimento in Pullman, e per poi giocare all'ora 19 quest'ultimo test, un test d'eccezione, quello contro il Begiktas, che molto bene ci ha presentato Maurizio nel servizio che hai appena mandato in onda e che soprattutto rappresenterà un banco di prova importante per la nuova Udinese che sta nascendo oramai da oltre tre settimane di Mr. Igor Tudor. Un Udinese che sta provando a fare qualcosa di diverso. Oggi è uscita, poi non so se l'ha già fatta vedere o la fare vedere, in rassegna una bellissima ed ampia intervista del mister concessa alla Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato non solo tanti passaggi, la sua vita anche personale, il suo passato da giocatore e allenatore, ma anche di ciò che lui vuole vedere dalla squadra che sta nascendo. Una squadra che sia più propositiva, più capace di giocare al pallone, di stare magari dieci metri più avanti, pur senza perdere quelle caratteristiche di tempra, di durezza, di caparbietà che l'hanno caratterizzata sotto la sua gestione nel finale della passata annata. Ecco, questo processo di transizione, questo step migliorativo, naturalmente è in divenire perché siamo appena al 2 di agosto. Però, con una settimana in più di lavoro, vediamo cosa accadrà stasera contro il Begiktas e attenzione anche a delle possibili variazioni tattiche, anche di interpreti, magari potranno cambiare un 3-4 pedine rispetto alle ultime uscite, proprio per testare, per collaudare più giocatori in questo nuovo processo di apprendimento tattico. Perché Tudor, a proposito, mi rialaccio ancora a quell'intervista, ha sempre ribadito, ma l'ho fatto più volte anche nei nostri microfoni, che non sono i moduli che contano, non sono i concetti che contano, quelli che lui sta cercando di trasferire. Una squadra che sta 10 metri più su o 10 metri più giù è più importante del 3-4-2-1, del 3-5-2, o magari del 1-4-3-3 o del 4-2-3-1. Perché comunque le ipotesi sul tavolo restano tante. Se è partito da quello, si cerca di avere quei concetti, ma non si abbiura a priori nessun tipo di cambiamento, come potrà essere, ad esempio, anche una difesa a 4, per fare un esempio. A te, David. Buon lavoro per questa giornata, ci rivedremo nei prossimi appuntamenti con l'informazione. Come dicevamo della Gazzetta dello Sport, innanzitutto andiamo a dare un'occhiata all'apertura. Cinque giorni per un sì, braccio di ferro, Di Bala, Juve, contatti con Apparatici e Sarri, Paolo tenuto in vacanza forzata per spingerlo allo United ed avere così Lukaku. Altro scambio, Danilo e Soldi per Cancelo. Di taglio alto, invece, espulso, scontro totale ai car di Inter, Marotta, qui non giochi più, Wanda pensa di fare causa e Naigolan torna a Cagliari, scelta di cuore per ripartire. Zazza e Belotti copia da sogno, l'Eurotoro trova i bielorussi in Europa League, altri quattro gol al Debrecen dei Granata, che al terzo preliminare dell'Europa Cup si troveranno di fronte il Soligorsk. E poi, ancora, di taglio basso, invece, Correa firma il patto col diavolo, la rivoluzione rossonera che prosegue. L'obiettivo è un superattacco, un nuovo incontro, vuole soltanto il Milan, e si tratta con l'Atletico. Anticipi e posticipi, la Serie A partirà con Parma Juve, il 24 all'ora 18, Inter Lecce il lunedì. E andremo tra poco anche a dare un'occhiata proprio agli orari delle partite di questo primo turno, che, come vi abbiamo annunciato ieri, vedranno proprio l'ulinese protagonista di queste variazioni, perché la prima sfida del campionato, quella con il Milan alla Dacia Arena, si giocherà alle ore 18 di domenica 25. L'intervista di Tudor, alla quale accennava il nostro Jacopo, eccola qua. Una bella a tu per tu con il cambiamento, un udinese tosta, ma che non butti mai la palla. A firma di Francesco Veluzzi, l'intervista al mister Bianconero, dopo due salvezze da subentrato, il tecnico croato parte dall'estate, mi aspetto una crescita da tutti, anche se allenare 37 giocatori non è facile. Andiamo a recuperare alcuni passaggi della sua intervista. Su De Poli in particolare, dice Tudor, è completo, ha qualità, testa, personalità e fisico, ci ha dato la metà dei nostri punti. E poi, ancora, vorrei provare a cambiare stile, non buttare la palla, ma a tutti devono correre. Sui 37 giocatori a disposizione in allenamento nel ritiro, è chiaro che contemporaneamente non posso allenarli tutti, divido in due gruppi, ma senza lasciare da parte nessuno, chiaro che le partitelle o i possessi, 10 contro 10, non puoi farli con tutti. Si parla di De Poli, il giornalista chiede, il nodo più grosso appunto è il giocatore argentino, in attesa di essere venduto, ma costa 40 milioni. De Poli è stato a metà dei nostri punti, tre gole e un assist, chiaro che bisognerà vedere. Cosa succede con lui, ha risposto il mister. E poi, ancora, andiamo a leggere alcuni passaggi. Dove vede l'Udinese, chiede Veluzzi, l'obiettivo della salvezza è inutile stare a fare altri discorsi, siamo quelli e la storia degli ultimi due o tre anni ci dice che siamo salvati a fatica. O fai la rivoluzione con cinque titolari nuovi o resti realista, anzi il campionato che verrà sarà ancora più difficile. Lavoro per preparare al meglio la squadra e l'unica cosa che conta è prendere punti. E poi, ancora in ritiro, ha pensato ad un cambio di sistema che ha provato in amichevole. Dal 3-5-2, modulo dell'Udinese conseguito da anni, al 3-4-2-1, con qualche difficoltà per ora. Sì, dice Tudor, dà troppa importanza ai moduli invece che ha lo stile di gioco e che è quel che conta di più. C'è troppa superficialità, semplicemente si tratta di stare dieci metri più avanti o dieci più indietro. Vorrei provare a cambiare stile, a cambiarlo significa non buttare la palla, pur non rinunciando ad avere una squadra tosta in cui tutti corrono e bisogna cercare di avere di più la palla. Poi, tutto dipende dalla qualità dei singoli. Andiamo ancora a chiudere, torniamo all'inizio, tutto è work in progress. Quando finisce il mercato, tiriamo una riga e vediamo in che modo faremo i punti, con quale sistema e con quale stile. Si ricorda anche nei numeri che ha Igor Tudor, nelle date, nato a Spalato in Croazia nel 1978, cresciuto all'Aiduc dove ha poi chiuso la carriera da giocatore, è arrivato alla Juventus nel 98, è rimasto fino al 2005, vincendo due scudette e due supercoppe, ha poi giocato anche con il Siena. Dopo il ritiro nel 2008 ha fatto il secondo a Reia proprio nell'Aiduc, dicevamo, e poi è allenato dal 2013 al 2015. Quindi passaggi al Pauca, al Carasburpoor e alla Galatasaray. Una Tudor che in 15 partite con l'Udinese ha ottenuto un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Sulla Gazzetta si fa il punto anche sulla sfida amichevole di questo pomeriggio e contro il Besiktas di Leaic De Paul resta fuori. Questa è l'anticipazione, l'Udinese in Austria ha 37 giocatori, manca solo Trost e Kong, Tudor lascerà riposo e strughellarsi, è un affaticato quasi certamente De Paul che si è allenato col gruppo in eccedenza e poi al termine della partita l'Udinese farà, come detto, rientro in Italia. Ci fermiamo un attimo per il consueto punto sul traffico, cittadino di Udine. Allora diamo il buongiorno a Cristiano Berretta, della sala operativa della Polizia Locale. Sì, buongiorno. La situazione è un momento di traffico abbastanza regolare. Nonostante il temporale non abbiamo avuto particolari segnalazioni, quindi sembra che non ci siano per il momento stati problemi. Proseguono per oggi i lavori in via Lettricesimo, il piazzale Donatori di Sangue e l'asfaltatura, che verrà completata nella giornata di oggi, quindi siamo nella zona del Terminal Nord. Proseguono poi anche i lavori già iniziati in via Biella, sempre quindi zona nord, e naturalmente le solite chiusure di via Mercato Vecchio e di via Quileia. Per il momento non abbiamo ulteriori segnalazioni. Grazie, grazie a Cristiano Berretta, dalla sala operativa della Polizia Locale, che faceva accenno proprio al nubifragio, che sta interessando, interessato diverse zone del Friuli. Ci sono arrivate notizie di grandinate anche nelle zone collinari, da Fagagna fino a Tavagnacco e poi Magnano, con violente precipitazioni, erano insomma nelle attese del meteo, queste precipitazioni abbondanti durante la giornata di oggi, che interesseranno proprio la nostra regione. Torniamo ai quotidiani sportivi, sempre dalla Gazzetta. Dicevamo degli orari dei primi turni del campionato, perché ieri sono state fissate le date a favore anche delle televisioni, e quindi la prima giornata che si aprirà sabato 24 agosto vedrà al debutto Parma-Juventus alle ore 18 e poi Fiorentina-Napole 20.45. Domenica l'Udinese anticipa alle ore 18 contro il Milan, alle 20.45 tutte le altre, e si chiude con il posticipo del lunedì alle 20.45 Interlecce. La seconda giornata invece, che si disputerà domenica 1 settembre, vedrà l'Udinese in campo contro il Parma, sempre alla Dacia Arena, alle 20.45. Queste dunque le date e gli orari. Andiamo dalla Gazzetta alla prima pagina del Corriere dello Sport, dove troviamo in apertura l'ultimo tango. Di Bala arriva e la Juve lo gela. Devi andare allo United. Iguain alle corde, il pressing a Roma è incessante, i cardi chiesti 75 milioni, il Napoli stringe per Lozano. Parma-Juve apre la A, prima gara il 24 alle 18, il derby di Roma al primo settembre, sempre nel tardo pomeriggio. Naigolan a Cagliari che ritorno, Raja dice sì al club che lo ha lanciato, Giulini pagherà quasi tutto l'ingaggio. Fiorentina su Demme, la viola vicina all'acquisto del mediano dell'Ipsia, e poi pallotta. James Bond, Roma esaurita sul mercato, l'obbligazione da 275 milioni. Gli altri sport, il fatturato della barca che supera il miliardo, poi la Torino che dilaga con il poker europeo, e Valentino Rossi corro anche l'anno prossimo. Dalla Corriere dello Sport andiamo sul tutto sport. L'apertura. Rapsodia Toro in Ungheria, altro show contro il Debrecen 4 a 1, e la gioia immensa per Millico a segno dopo Zazza, Izzo e Belotti. Nel terzo turno dei preliminari di Europa League, Granata affronteranno lo Shakhtar. E poi, di taglio alto, via Cancelo c'è Danilo, a Corrovicino il portoghese alla corte di Guardiola, mentre il brasiliano ricomporrà con Alexandro la coppia dei tempi del porto. Ai bianconeri andrà un conguaglio superiore ai 30 milioni di bala. Il dilemma continua anche Mandzukic verso lo United. E poi ancora, Neigolan il ninja ha deciso, torna Cagliari. Ecco Leao, il Milan adesso ha salto a Correa. E poi il tennis, Sonego, oggi semifinale contro Tiem a Kitzbühel. Dai quotidiani nazionali andiamo ai quelli locali, ritorniamo a parlare di Udinese con il messaggero Veneto, che titola l'Udinese stasera all'esame Besiktas. Il Milan si avvicina, ora bisogna crescere. Alle 19, diretta da zona, per il cantiere 3-4-2-1 con Nestorovski dall'inizio, ci sono i tosti turchi di Leic e Quaresma. E poi, come dicevamo, sul fronte formazione, avevamo visto anche alcune riprese sulla gazzetta, per quanto riguarda la squadra che mister Tudor inserirà in campo. La rifunitura di ieri ha escluso l'impiego di De Paul. L'argentino si è allenato a parte, assieme a Ingersson, Musso e Mici, negli altri bianconeri, con Tudor che non ha preparato gli schemi. Ci sarà invece Nestorovski, e proprio il Macedone potrebbe essere la prima grande novità di formazione, prendendo il posto di Lasagna, come punta centrale. Alle sue spalle dovrebbero agire Balic e Pussetto, con l'argentino portato quindi più vicino alla porta, mentre Baracca dovrebbe cominciare in mediana da centrale, assieme a Iaialo, oppure esterno. Sul fronte opposto ci sarà proprio quel Tokos, che per settimane è stato inserito nel borsino dei possibili colpi bianconeri. Vedremo dunque anche le qualità di questo giocatore. Anche il messaggero ricorda che l'esordio col diavolo al Friuli, sempre il 25, ma alle ore 18, con le variazioni per le sfide televisive. E poi andiamo avanti con le pagine del messaggero Veneto. Recuperiamo la pagina seguente per continuare a sfogliare il quotidiano. Se riusciamo, eccola qua. Si continua a parlare con Mr. Tudor e l'analisi con o senza depol, il dilemma dell'estate che complica i piani dell'architetto Tudor. Tudor, il mercato aperto ancora un mese, non aiuta il tecnico di bianconeri. Difficile vedere la formazione definitiva se non a campionato avviato. 7 agosto, queste le prossime date dal mercoledì, il ritiro austriaco sarà solo un ricordo, si tornerà a lavorare a Udine. Il 18 il primo impegno ufficiale in Coppa Italia con l'udinese che ospiterà alla Dacia Arena la vincente della sfida tra Lentella e a sua volta la vincente del Sud Tirol-Fasano. E poi il 25 il debutto in campionato contro il Milan e poi il Parma nel secondo turno. Il 2 settembre è la data che darà la fisionomia definitiva all'udinese perché si chiuderà il mercato e non se ne riparlerà più fino a gennaio. Le trattative, si parla sul messaggero ancora del tentativo di Wallace con Ipozzo solo un milione che separa l'acquisto del giocatore il brasiliano è sempre più vicino scrive il messaggero. Ci sono poi due notizie positive per quanto riguarda l'Italia Under 18 che vede convocati anche due bianconeri Gasparini e Martin Palumbo. Ci sono il portiere e l'attaccante appunto tra i 22 convocati da Carmine Nunziata commissario tecnico dell'Under 18 in vista della gara amichevole che verrà a affrontare la nazionale la Slovenia si giocherà allo stadio di Cesana il 6 agosto e poi l'8 allo stadio comunale Gino Colausi di Gradisca di Sonzo. Per parlare di Udinese andiamo anche sulle pagine del Gazzettino con il titolo Udinese Tudor contro il Besiktas prova la soluzione Néstorowski l'attaccante macedone dovrebbe giocare titolare al posto di Lasagna Pussetto spostato più avanti e l'attenzione dei tifosi è rivolta alla punta ingaggiata per risolvere il problema dei gol. Andiamo a leggere alcuni passaggi dell'articolo a firma di Guido Gomirato la squadra ci potrebbe essere la novità per quanto concerne anche i trequartisti Pussetto per Balic o Barac un'altra poi in difesa con l'inserimento di Opoku al posto di De Maiu. La squadra dopo il test rientrerà Udine ma rompete le righe per probabili tre giorni di riposo verrà dato solo domani sera al termine di un altro test al momento non si conosce ancora lo sparring partner di turno dopo che è saltata l'amichevole col Padova organizzato per dare spazio in questo caso a chi è stato utilizzato di mero ovvero Nicolas, Perisans, Sierralta, Matos, Kulibalite, Odorchik, Pezzella, Cuba, Lateravest e alcuni dei quali sono destinati a cambiare aria. Per quanto riguarda il mercato il Gazzettino propone la questione Fofanà con la Lazio che guarda il giocatore al posto di Milinkovic come alternativa a Wallace si pensa invece a Pellegrini per quanto riguarda il fronte bianconero e poi ancora lasagna tra golla da segnare e il Napoli il futuro prossimo con Teodorchik ancora su lunga strada e la completa guarigione si parla del pacchetto offensivo la posizione di Kevin in questo scenario non sembra di certo la più comoda l'ex attaccante del Carpi al contrario di Teodorchik è sempre stato utilizzato da attitolare e poi per quanto riguarda proprio il futuro si parla ancora del Napoli con le lasagne che piace perché ha caratteristiche uniche in Italia di potenza fisica di progressione, di forza anche una buona precisione freddezza sottoporta per cui piace al Napoli e ad altre squadre ma c'è da capire se l'Udinese vuole privarsi di lui questo per quanto riguarda l'Udinese ci spostiamo ora a parlare anche di Pordenone con i Ramarri che continuano la loro preparazione in vista del debutto in Coppa Italia una cittadella in difficoltà sulla strada dei Ramarri sì perché domani al Tombolo ci sarà l'amichevole con i Granata di Dio Martedì il calendario poi della serie Cadetta Strizzolo, Chiaretti e Semenzato sono i tre ex Pobega proverò a garantire fisicità e inserimenti una amichevole dunque che farà respirare già il clima di serie B contro la cittadella la sfida in programma alle ore 18.30 al comunale di Tombolo con l'amichevole denominata Birra Castello tra i Granata di Venturato e i Ramarri di Tesser dicevamo dell'attesa per il debutto in Coppa Italia domenica 11 con la sfida dei Neroverdi alla Dacia Arena ci sarà di fronte la vincente dello scontro del primo turno preliminare tra Adriese e Feral Pizzalò in programma proprio domenica 4 il calendario di serie B per sapere quali saranno tutti gli scontri della Pordenone rimane viva l'attesa perché ci sarà la cerimonia del sorteggio prevista martedì al Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno con la diretta dalle ore 20 sia su Resport sia su Dazon Germinale vola verso la Sicilia c'è il Palermo per lui per il potonare invece in Bialivorno ma molte altre offerte sul tavolo tempo di uscite Magnaghi diviso tra il Teramo di Bruno Tedino e la Ternana deve infatti alleggerire la propria rosa il Pordenone che ha lavorato molto bene sul mercato e poi andiamo per parlare di Pordenone anche sulle pagine del Messaggero Veneto recuperiamo quelle dedicate proprio ai Neroverdi e ritroviamo l'intervista a Pobega che dice ho la mentalità vincente di Gattuso ora la salvezza col Pordenone poi la Serie A il centrocampista ingaggiato dai Neroverdi che al Milan ha rubato i segreti del tecnico calabrese per noi giovani è stato un modello somiglia a Maracchi Tresino come lui non pensa solo al calcio si iscriverà ad Economia così racconta Alberto Bertolotto nella sua intervista di oggi domani il test con il Cittadella dicevamo subito in campo anche i due grandi ex con Candellone a supporto nel 4-3-1-2 poi l'altro ex Chiaretti oggi per i Neroverdi una sola seduta pomeridiana alle ore 17 si parla poi dei nuovi campionati dilettanti con i nuovi campionati che vedranno il Maniago Libero in promozione l'organico Lumicino in terza con l'ufficialità del ripescaggio in D-Delta ma infatti il Vaiont indirizzato a ripartire dalla terza categoria cambieranno ulteriormente le carte in tavola e si attende comunicato ufficiale del FIGC regionale proprio per la definizione dei gironi delle varie categorie in Friuli Venezia Giulia torniamo agli altri sport il basket con l'Ital Basket che si prepara per i mondiali e c'è stato il ricordo del giorno in cui l'Ital Basket fece piangere il Dream Team a colonne gli azzurri di Recalcati scrissero la storia un secco 95-78 a Lebrone Company capitano Galanda che fu immarcabile ci esaltamo ma eravamo fatti così questo è il ricordo che traccia oggi il messaggero di quella sfida dicevamo appunto che la formazione di basket si sta preparando per i mondiali e la prima scommettevano su quanti ne avremmo presi c'è anche cinque domande a Gianmarco Pozzecco il play che fece impazzire Iverson che partita e poi con gli altri sport parliamo anche di piani di luzza dal tatami alla natura il giudocca friulana i giudocchi friulani piantano 50 alberi per salvare la foresta l'idea della delegazione FWG in occasione del World Judo Day il plauso dell'assessore Zanne un'iniziativa lodevole e poi ancora con le altre pagine sportive si parla di Apu con la rivederci a Chiti che a Giulianova è pronto a spiccare il volo il ventenne lignanese in prestito al team abruzzese di serie B a Udine due anni fantastici con Capitan Pinton modello da cui ho imparato molto il basket femminile Giulia dalla Delser all'Italia con l'Under 20 vuole giocare un europeo da protagonista la 19enne Tristina ha rifinito la preparazione a Udine dove reduci da un'annata positiva con la libertà se dove tornerà a settembre c'è anche Stefano Tonut scudettato ma senza azzurro tornare in regione è ancora presto dice la guardia Tristina della Reier che il 31 affronterà Udine al Lignano Basket poi il Tavagnacco con l'inizio del lavoro sul campo la nuova formazione che vuole sfidare i grandi club la prima seduta gli ordini di Mr. Lugnan Rosa e staff rivoluzionati in prova anche due giapponesi abbiamo anche il servizio di Lorenzo Paussa proprio su quest'inizio di stagione del Tavagnacco Mr. Lugnan finalmente è il giorno del raduno tutte le ragazze arrivate puntuali qua a questo appuntamento ecco c'è molto entusiasmo che è la prima cosa fondamentale per tuffarsi nella nuova stagione sì assolutamente quello non può mancare devo dire che ho trovato un ambiente particolarmente accogliente c'è la voglia e l'entusiasmo di incominciare di fare bene quindi oggi iniziamo il primo allenamento e da qui parte un'avventura che speriamo ci dia delle soddisfazioni sicuramente non possiamo prescindere dalla organizzazione di gioco che avremo e sicuramente dall'intensità al ritmo e quindi dalla preparazione atletica che dovremo mettere nelle gambe per poter cercare di correre più dell'avversario perché se sono brave altre medicine non conosco c'è molta curiosità anche di vedere all'opera le nuove arrivate che sono degli nesti importanti sì io non le conosco so per fama per quello che mi hanno detto che sono delle buone giocatrici quindi confido in loro che ci possano fare insomma quella differenza per poter riuscire a stare in piedi far bene e ottenere buoni risultati era una stazione con la Fiorentina due anni ho giocato con la Verona l'anno scorso con la Fiorentina sono giocatrice del nazionale greca e questo anno sono qui per giocare per il Tavagnaco e vincere tutto Serie A sempre ogni anno va più alto e tutto va bene per Serie A sono felice che sono qua sono sicura non penso sono sicura che vincere tutto questo anno siamo una squadra bellissima è in bocca al lupo dunque anche alle calciatrici del Tavagnaco per questa nuova stagione noi prima di salutarci vi ricordiamo i prossimi appuntamenti di giornata l'informazione che tornerà live a partire dalle 11 poi alle 12 alle 16 alle 17.30 in pomeriggio calcio andremo a sentire le ultimissime in vista della sfida amichevole tra Udinese e Besiktas e poi alle 19 il nostro appuntamento con l'informazione serale ci congediamo come al solito invece con la rubrica che accade oggi di Guido Gomirato buona giornata a tutti il 2 agosto del 2000 l'Udinese affronta al Friuli l'Austria di Vienna è il quarto turno della Coppa Intertoto nella gara di andata l'Udinese aveva vinto a Vienna per 1 a 0 gol di Sosa il 2 agosto davanti a 15.000 spettatori i bianconeri vincono 2 a 0 va in gol ancora Sosa poi segna Mussi l'Udinese in quella manifestazione aveva debutato con l'Albor 2 a 0 in Danimarca 1 a 2 in casa poi aveva vinto i due incontri con il Vienna per poi vincere nell'atto decisivo contro i cechi dell'Holomuk 2 a 2 nella Repubblica Ceca 4 a 2 al Friuli dopo i tempi supplementari il grande protagonista dell'Intertoto è sicuramente El Pampasosa 6 reti in altrettanti confronti a l'Università di Sosa di Sosa di Sosa Grazie a tutti.